Gli Stati Uniti si ritireranno ufficialmente dal Consiglio ONU sui diritti umani, un'organizzazione ipocrita ed autoreferenziale che deride ai diritti umani. Questo è l'annuncio dell'ambasciatrice USA all'ONU, Nikki Haley, affiancata dal segretario di Stato Mike Pompeo. L'alto commissario per i diritti umani Zaid Radha Lussein aveva criticato gli USA per separare forzatamente dalla famiglia i figli dei migranti clandestini presso il confine con il Messico, trattenuti in centri detentivi. Tuttavia, il ritiro dal Consiglio ha poco a che fare con questo. La motivazione principe è il cronico pregiudizio contro Israele, afferma Haley. Il Consiglio ha passato più risoluzioni contro Israele che contro tutto il resto del mondo, rincara la dose Pompeo. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ringrazia Washington per la coraggiosa decisione di lasciare un organismo prevenuto e ostile contro Israele e che ha tradito la missione di proteggere i diritti umani. Un'accusa bipartisan quella contro il Consiglio ONU, poiché espressa anche dai Hillary Clinton nel 2011, quando parlò di pregiudizio strutturale contro Israele. E' una somiglianza straordinaria. Infatti, anche Israele detiene nelle sue carceri minori palestinesi, che separa dai familiari ed interroga senza la presenza di alcun legale. Haley inoltre critica la presenza nel Consiglio di stati come la Cina, Cuba, Venezuela e Congo, appena aggiuntosi, come regolari violatori dei diritti umani. Secca la risposta da Mosca. Gli Stati Uniti intendono trasformare il Consiglio in un meccanismo compiacente, che promuova i suoi interessi e punisca chi è in disaccordo. Ma, continua la missione russa all'ONU, il Consiglio è una piattaforma chiave a livello internazionale in fatto di diritti umani, disegnata per fare gli interessi di tutti gli stati membri, non quelli di un paese o di un gruppo di paesi. Un'inchiesta del quotidiano The New Yorker rivela l'impegno degli Stati Uniti a proteggere l'arsenale nucleare israeliano, arsenale stimato in centinaia di atomiche. Donald Trump, si legge, sarebbe il quarto presidente degli Stati Uniti a firmare una lettera segreta in cui si impegna a non fare pressioni su Israele affinché elimini il suo arsenale nucleare. In cambio, Tel Aviv si assume la responsabilità di non testare o minacciare di usare l'arsenale nucleare. Dai tempi dell'amministrazione Nixon l'accordo sarebbe già esistito, ma in forma esclusivamente verbale. Fu poi trasformato in accordo scritto, seppur segreto, per la prima volta da Bill Clinton e quindi rinnovato da George W. Bush, da Barack Obama e infine da Donald Trump. Israele non ha mai firmato il trattato di non proliferazione nucleare. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina entra ancora più nel vivo, con l'ultimo botta e risposta tra Washington e Pechino. Trump minaccia dazzi del 10% su prodotti cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari, destinati a salire a 400 in caso di rivalse da Pechino. La controparte cinese non si fa attendere, con l'annuncio di tariffe capaci di colpire merce USA per 50 miliardi di dollari. Il motivo lo si vede nelle cifre. Il saldo commerciale USA è pesantemente negativo. Troppe importazioni e poche esportazioni. Di questo sbilanciamento complessivo, la fetta di gran lunga più grande è quella dell'esportazione cinese verso gli USA, 375 miliardi di dollari. La Cina esporta negli Stati Uniti un terzo in più di quanto non importi dagli Stati Uniti, ma il bilancio lo si vede meglio leggendo l'elenco delle merci americane che Pechino ha sanzionato in risposta ai dazi imposti gli da Washington. Un elenco davvero curioso, dove in grande maggioranza appaiono merci come carne di maiale, fagioli e legumi, frutta, vino, motociclette, automobili. Francamente sbalorditivo che un paese che viene considerato, ed è una massima potenza mondiale, esporti prevalentemente merci agricole e a basso o bassissimo contenuto tecnologico. Viceversa, l'elenco americano delle merci cinesi da sottoporre ai nuovi dazi è costituito prevalentemente di prodotti ad alto contenuto tecnologico. Emerge quindi con maggiore chiarezza il significato strategico della mossa di Donald Trump, ostacolare in ogni modo la realizzazione del progetto di Xi Jinping, quello del Made in China 2015, che in termini politici si traduce come conquista del primo posto mondiale nei principali settori tecnologici più moderni. Il mondo intero si trova all'inizio di una situazione inedita, in cui i due giganti hanno capacità di investimento più o meno identiche, mentre la Cina è già in vantaggio quanto a capacità concorrenziale sul mercato internazionale. Per giunta, la nuova via della seta, avviata da Pechino, avvolge nelle sue aspettative l'intero continente euroasiatico, cioè qualcosa come 4 miliardi di individui, annunciando alla Cina nuovi e giganteschi vantaggi commerciali. Accoglieremo le valutazioni dell'Italia sulla migrazione, che concepiamo come sfida comune. Siamo per una risposta europea, vogliamo evitare che l'Europa si divida. Parola di Angela Merkel, pronunciatasi a fianco di Emmanuel Macron in una conferenza stampa congiunta, ieri martedì 19 giugno a Meseberg, Germania, subito dopo aver incontrato il premier italiano Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale in suolo tedesco. I confini italiani sono confini europei, ha sottolineato il premier italiano, ribadendo una divisione di responsabilità fra gli stati dell'Unione. Merkel e Conte sono d'accordo nel rinforzare la Frontex, Polizia Europea di Frontiera, e sul lavorare alle richieste di asilo direttamente dal paese di provenienza, in Africa come nel Medio Oriente. Gli scafisti e i trafficanti di uomini non possono decidere che arriva in Europa, ha continuato la cancelliera tedesca, che a sorpresa si schiera con il suo ministro degli interni, Horst Seehofer, leader della bavarese CSU, evitando così la crisi di governo. Concordiamo sul fatto che i migranti registrati in un paese e che poi vanno in un altro debbano essere respinti al più presto. Un punto su cui Italia e Francia, dopo le dispute sull'Aquarius, hanno già trovato un accordo. Oltre al tema migrazione, con Macron sono state discusse anche le riforme finanziarie dell'Eurozona, come la trasformazione del meccanismo di solidarietà europeo in un fondo monetario europeo, da portare a compimento entro il 2024. Riforme a cui lavoriamo da tempo, ha dichiarato Macron. Una rete di protezione fiscale che dovrebbe ristrutturare il debito dei paesi europei in difficoltà, salvaguardando i contribuenti dei paesi più ricchi dell'Unione Europea. Ancora però non sono chiare le condizioni a cui dovrebbero sottostare i paesi beneficiari, da discutere nelle settimane che seguiranno il vertice europeo di fine mese. Lunedì 18 giugno il Consiglio europeo ha rinnovato le sanzioni contro la Crimea. Esse colpiscono 155 persone e 38 entità, includono divieto di import in Europa di prodotti made in Crimea e in Sebastopoli, divieto di esportazione di beni e tecnologie, divieto di investimenti e restrizioni nel turismo. Apparente silenzio da parte italiana, nonostante il contratto di governo, che impegna Lega e Movimento 5 Stelle a togliere le sanzioni alla Russia. Tuttavia, il vero terreno di scontro è il rinnovo delle sanzioni economiche settoriali a tutta la Russia, che scadono il prossimo 31 luglio. Tali misure prevedono accesso limitato ai mercati finanziari dell'Unione Europea per talune banche e società russe, divieto di esportazione e di importazione di armi, divieto di esportazione per scopi militari o per utilizzatori finali in Russia, accesso limitato per la Russia a servizi e tecnologie utili per la produzione e la prospezione del petrolio. Roma potrebbe porre il veto sulla proroga per ottenere così quote sui difugiati e hotspot in Africa durante il decisivo summit europeo del 28 e 29 giugno.